Siamo letati Gesù e Maria, state per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudentur, Iesus et Maria Amici carissimi, do a tutti coloro che stanno ascoltando questa prima in diretta e anche a chi l'ascolterà in differita il benvenuto a questo nuovo ciclo di catechesi o meditazioni su uno dei best seller di Sant'Alfonso Maria degli Cuori. Era diverso tempo che desideravo commentare e rigustare qualcuna delle opere di questo grandissimo dottore di cui io sono particolarmente devoto, che è Sant'Alfonso Maria degli Cuori, dottore della Chiesa e patrono dei confessori e dei moralisti per la sua straordinaria sapienza. Un santo veramente strepitoso, un uomo dalla straordinaria intelligenza, una sceta di prima categoria, un evangelizzatore infaticabile, un pastore assolutamente esemplare, uno scrittore superplorifico e peraltro di elevatissimi contenuti che spaziano dalla una dottrina evidentemente aulica, i suoi scritti morali, molti dei quali purtroppo disponibili, dico purtroppo perché non conosce soltanto il latino, il suo best seller La pratica del confessore, che bisogno che il confessore dovrebbe leggere, e poi sui libri devoti, Le glorie di Maria, il best seller Mariano, un libro devotissimo della Madonna, La pratica di Maria Gesù Cristo, L'uniformità e la volontà di Dio, e appunto questo che adesso faccio vedere, io lo possiedo in cartaceo in un'edizione di San Paolo, che è L'apparecchio e la morte, che è quello che formerà appunto oggetto di questo ciclo di catechesi, catechesi meditazioni, perché questo testo, come molti testi di Sant'Alfonso, per esempio uno dei raccomandatissimi, sono le visite al Santissimo Sagramente a Maria Santissima, è strutturato in forma di orazione, questo serve a fare non si sa quante orazioni mentali sulla morte e su tutto ciò che è connesso, diciamo così, al tema della morte, con lo stile tipico, caratterizzante di quest'autore, peraltro pittore, ha composto dei meravigliosi quadri della Madonna, compositore, molti ma non tutti sanno che per esempio tu scendi dalle stelle, la scritta Sant'Alfonso Maria dei Rigori, peraltro un napoletano verace doc, proprio il fior fiore della bellezza della gente di quella terra, avvocato rinomato, non della conversione perché è stato sempre un cristiano esemplare, anche gli avvocati a mio avviso ci sono in alcune biografie anche dei riferimenti a come lui svolgeva la professione d'avvocato, al decalogo che si era dato, se tutti gli avvocati osservassero quel decalogo avremmo un altro mondo, avremmo. Quindi, a me personalmente, la conoscenza e la lettura degli scritti di Sant'Alfonso mi ha dato tantissimo. Nel mio libro, dunque, le virtù di Maria, la parte introduttoria ad ogni virtù è ampiamente tratta dalle glorie di Maria di Sant'Alfonso, che è un altro best-seller assolutamente imprescindibile per quanto mi riguarda, proprio da leggere al cento per cento. Quindi, nella mia formazione, nella mia spiritualità, nella mia formazione di cristiano e di sacerdote, ha avuto un ruolo determinante. Veniamo dopo questo breve, doveroso, preambolo anche di presentazione della dottoria. Sant'Alfonso nacque il 27 settembre del 1696, a Marianella di Napoli, ed era il primo genito di otto figli, come erano un tempo le famiglie, si iscrisse nel 1708 all'Università Partenopea, tuttora presente a Napoli, frequentò la facoltà sentita di diritto canonico e civile e conseguì a 16 anni, per far capire la testa che aveva, la laurea in utroque iure, cioè in diritto civile e canonico. Venne presto acclamato come civilista di fama per le vittorie riportate, in tutte le riaffidate, non ha mai perso una causa. Solo che nel 1793, quindi quando lui aveva soltanto 27 anni, un clamoroso processo perduto per interferenze politiche decise il suo avvenire. Lui si accorse che aveva perso un processo non perché non aveva fatto bene la causa, ma per alcuni intrallazzi che erano stati fatti. Quindi si è tolto la toga, è entrato in crisi e scelse di diventare sacerdote. Tre anni dopo, 1726, quindi all'età di 30 anni, era già sacerdote. E penetrò con coraggio nel mondo dei razzaroni per recuperarli mediante l'istituzione delle cappelle serotine, primo saggio del suo zero inarrestabile. Nel 1732 fondò a Scala, Salerno, i missionari redentoristi con lo scopo di catechizzare le anime più abbandonate delle campagne. Fatto vescovo di Sant'Agata dei Goti, nel 1762, ottenne l'esonero dal governo della diocesi 13 anni dopo, per ritirarsi a Pagani, dove quasi 91enne si spense il primo agosto del 1787. Ha lasciato in tutto 111 iscritti, io ne ho citati soltanto 4-5. Gregorio XVI, nel 1839, lo dichiarò santo. Pio IX, il grande Pio IX, nel 1871, dottore, e Pio XII, nel 1950, patrono di tutti i confessori e moralisti. Il testo si intitola, leggo proprio il titolo esteso, apparecchio alla morte, cioè considerazione delle massime eterne, utili a tutti per meditare e ai sacerdoti per predicare. Sono sottotitoli proprio del frontespizio, quindi scritti da lui. Il testo comincia, ovviamente non leggo l'introduzione, qualcosa l'ho detto io, ma c'è anzitutto una dedica, che è necessario leggerla, perché fa capire molto del cuore innamorato, fervoroso, di questo grande santo, perché ricordate che i santi, anche i grandi santi esperti di dottrina, oggi, per esempio, il 13 settembre, c'è anche un altro colosso della storia della Chiesa, universale, in particolare della Chiesa d'Oriente, perché è uno dei quattro dottori della Chiesa d'Oriente, che è San Giovanni Crisostomo, uno dei, forse, il più grande predicatore di tutti i tempi, forse anche superiore a Sant'Antonio di Padova, ed è infatti il patrono dei celesti predicatori, ma questa gente, i grandi dottori, i grandi santi, meno che quello ho potuto conoscere io, non hanno nulla a che fare con certi tipi di teologi o di esegeti contemporanei, che sono pozzi di scienza, quindi intelligenze fuori del comune, ma devozione, amore al Signore che traspare proprio dalle viscere, da ogni sillaba, gli scritti di Sant'Alfonso sono una trasudazione di amore verso Gesù e Maria e non mi sillaba, lo sentiremo. Quella è la cosa più importante, perché la teologia cattolica non è esercizio di lucubrazione mentale o mera scienza, ma è un approfondimento certamente in cui si applica l'intelletto nel grande mistero di Dio che però è anzitutto sommamente amato, lodato, adorato, vissuto e servito e poi certamente anche approfondito, studiato, il Signore è contento, ci ha creato per questo, Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servito in questa vita e goderlo nell'altro, conoscerlo è l'operazione che si fa con l'intelletto, no? Allora, questa è la dedica del testo. All'Immacolata e sempre Vergine Maria, alla piena di grazia, sentite, alla benedetta tra tutti i figli di Adamo, alla colomba, alla tortorella, alla diletta di Dio, onore del genere umano, delizia della Santissima Trinità, casa d'amore, esempio d'umiltà, specchio di tutte le virtù, madre del bell'amore, madre della Santa Speranza e madre di misericordia, avvocata dei miseri, difesa dei deboli, luce dei ciechi e medica degli infermi, ancora di confidenza, città di rifugio, porta del paradiso, arca di vita, iride di pace, porto di salute, stella del mare e mare di dolcezza, pacera dei peccatori, speranza dei disperati, aiuto degli abbandonati, consolatrice degli afflitti, conforto dei moribondi e allegrezza del mondo, un affezionato e amante, benché vile ed indegno suo servo, quest'opera umilmente consagra, quindi scritto in italiano antico. Ecco il biglietto da visita di Sant'Alfonso a Maria dei Liguori, distintivo dei grandi santi e dottori, veri, una tenera, come dice San Luigi Monfort, profonda, solida, vera, fondata, devozione e amore sconfinato a Maria Santissima. Questo è il distintivo, distintivo dei veri sapienti, dei veri maestri e dei veri dottori. Dove non c'è devozione alla Madonna, invito a diffidare, diffidare. Questa statuina che adesso sto facendo vedere, che è una grazia di Dio poterla avere, io l'ho presa a San Laurent-sur-Sèvres. Questa fu scolpita da San Luigi Maria Grignon da Monfort a mano e lui la portava sempre con sé. Dovunque, dovunque stava se la metteva vicino. E peraltro lui aveva un bastone a forma di croce dove nella parte superiore c'era una scanalatura quindi quando lui usciva viaggiava a piedi per le sue predicazioni poneva questa madonnina sopra il bastone e quindi aveva insieme il crocifisso e la Madonna che sono due realtà inestricabili. Oggi mentre sto correggendo un testo che non vedo l'ora di poter ripubblicare che è quello che descrive le principali apparizioni mariane riconosciute nel corso della storia sono andato a rivedere il capitolo riguardante Rieu de Bach e la medaglia miracolosa quel logo che si è inventato Maria Santissima che è la M intersecata dalla I e sormontata dalla croce è proprio un capolavoro che mostra l'indissociabilità tra Gesù e Maria non si possono dividere più facile è dividere la luce dal sole che è dividere Gesù da Maria e Maria da Gesù ecco perché i grandi distintivi il grande distintivo è questo amore da Madonna dopo la dedica c'è una prefazione stavolta fatta da Sant'Alfonso che non possiamo evidentemente omettere perché ha come titolo intento dell'opera necessario a leggersi quindi prima di leggere quest'opera devi leggerti l'intenzione con cui io l'ho composta e il fine per cui l'ho composta ecco di nuovo le parole del grande santo altri desideravano da me un libro di considerazioni sulle massime eterne per le anime che desiderano di meglio stabilirsi ed avanzarsi nella vita spirituale altri poi da me chiedevano una selvetta di materie predicabili nelle missioni e negli esercizi spirituali io io per non moltiplicare libri fatiche e spese ho stimato di fare la presente opera nel modo come si vede a ciò che possa servire per l'uno e per l'altro fine affinché possa giocare a secolari per meditare ho scritto queste considerazioni divise in tre punti ogni punto servirà per una meditazione e perciò dopo ogni punto vi ho soggiunti gli affetti e preghiere quindi è impostato come un testo di meditazione su ogni titolo di capitolo ci sono tre punti di meditazione e poi gli affetti e le preghiere perché Santa Rosa è stato un grande maestro di orazione mentale l'orazione mentale si fa appunto meditando su alcuni punti alcune verità ma la meditazione deve sollecitare l'affetto e portare alla preghiera e al proposito questa è la meditazione in due parole cattolica o orazione mentale e prego i lettori di non prendere tedio se in queste preghiere leggerà sempre chiedersi le grazie della perseveranza e dell'amore a Dio poiché queste sono le due grazie a noi più necessarie per conseguire la salute eterna capito per conseguire la salute eterna cioè la salvezza cosa dobbiamo chiedere al Signore l'amore l'amore a Dio la carità in senso stretto il primo comandamento è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze questo è quello che si fa in paradiso e poi la perseveranza perché senza perseveranza non si entra in paradiso il grande padre Pio da Pietrelcina degno oltre modo di essere nominato con Sant'Alfonso sicuramente in paradiso sono grandissimi amici tutti sono amici in paradiso ma hanno dei tratti in comune pur nella differenza evidentemente di di missioni di funzioni ecclesiali padre Pio diceva la fede non è di chi ben comincia e nemmeno di chi va avanti per un certo tempo ma di chi persevera fino alla fine facendo eco alla parola del nostro unico maestro e Signore Dio vero da Dio vero che è Gesù Cristo che nel Vangelo dice chiaramente solo chi persevererà fino alla fine questi sarà salvato proseguo la lettura la grazia dell'amore divino è quella grazia dice San Francesco di Sal che contiene in sé tutte le grazie perché la virtù della carità verso Dio porta con sé tutte le altre virtù qui c'è una citazione in latino del libro della sapienza venerunt autem michi omnia boni bona pariter cumilla cioè insieme con essa mi sono venuti tutti i beni chi ama Dio veramente è umile o è casto è ubbidiente è mortificato insomma tutte le virtù il che significa non sei umile non sei casto non sei ubbidiente a Dio ovviamente ubbidiente non sei mortificato non ami Dio non ami Dio ama et fac quod vis diceva Sant'Agostino questa è una parola una frase verissima ma nell'attuale nostro contesto non saprei neanche io come definirlo Becero viene strumentalizzata no ama e fa quel che vuoi ama chi ama chi ama Dio veramente e fa quel che vuoi perché ti ama Dio veramente fare quel che vuoi significa nient'altro che fare quello che Dio vuole perché se uno ama Dio veramente si farebbe ammazzare piuttosto che andare contro ad occhi aperti ciò che sa essere volere di Dio ammazzare proseguo la lettura ama Dio e fa quel che vuoi sì perché chi ama il Dio cercherà di evitare ogni suo disgusto e d'altro non andrà cercando che di compiacerlo in tutto chi lo ama veramente provate a chiedere ad una persona che ama Dio qual è il tuo più grande desiderio di piacere in tutto all'altissimo qual è il tuo più grande timore di dare anche il minimo dolore fosse anche il più piccolo a colui che so a colui che so a colui che immensamente amo questo è l'amore autentico amici miei e amiche mie l'altra grazia poi della perseveranza è quella che fa ottenere la corona eterna dice San Bernardo San Bernardo il grande San Bernardo da San Bernardo da Chiaravalle il Dr. Melliflus e anche chiamato Dr. Marianus un altro innamoratissimo di Maria Santissima dice San Bernardo che il paradiso è promesso a coloro che incominciano la buona vita ma si dà poi solo a coloro che perseverano scrive nel sermone 6 nel sermo 6 de modo bene vivendi del modo di vivere bene in coantibus premium prometitur perseveranti autentaturo il premio promesso a coloro che cominciano ma è dato a chi persevera ma questa perseveranza come insegnano i santi padri non si dà se non a chi la domanda onde scrisse San Tommaso che per entrare in cielo vi bisogna una continua orazione questa è una citazione della Somma Teologia della terza parte questione 39 articolo 5 post baptismum autem necessaria est homini iugis oratio ad hoc quod celum in troia dopo il battesimo necessaria per l'uomo l'orazione per poter entrare in cielo e prima lo disse il nostro salvatore o portet semper oraret non deficere l'antefatto alla parabola della vedova della povera vedova del giudice inico della vedova importuna bisogna pregare sempre e non venir meno non staccarsi e questa è la causa per cui molti miseri peccatori benché perdonati non persistono nella grazia di Dio dicevano il perdono ma poiché poi trascurano di cercare a Dio la perseveranza specialmente in tempo di tentazioni ritornano a cadere all'incontro quantunque la grazia della perseveranza sia tutta gratuita e non possa da noi meritarsi con le nostre opere quindi questa è una grazia che non si merita con le opere non di meno dice il padre Suarez che con la preghiera infallibilmente si ottiene attenzione questo padre Suarez nell'epoca rinascimentale era una autorità assoluta in campo teologico eh Francisco Suarez un gigante ovviamente grande interprete di Santo Ammaso d'Aquino ma veramente un pozzo di scienza avendo già prima detto Sant'Agostino che questo dono della perseveranza può meritarsi con l'orazione hot day donum suppliciter emereri potest id est supplicando impetrali potest questo dono di Dio può essere meritato suppliciter cioè pregando cioè si può conseguire supplicando De dono perseveranzie capitolo 6 questa necessità dell'orazione la dimostreremo a lungo in un altro peretto a parte è intitolata l'ho dimenticata nella situazione sono talmente tante ho dimenticato anche la vera sposa di Gesù Cristo che è un best seller per le anime vergini consacrate il gran mezzo della preghiera la necessità dell'orazione operetta la quale quantunque sia breve perciò di poca spesa non di me non mi costa molta fatica ed io la stimo di sommo utile ad ogni genere di persona anzi dico asseverantemente che fra tutti i trattati spirituali non vè né può essere né può esservi trattato più utile e più necessario di questo della preghiera per ottenere la salute eterna quindi gli uomini santi i veri uomini di Dio sono uomini di preghiera se un ministro se un prete se un vescovo non prega tanto non parlerà di cose divine non dirà cose divine dicono i maestri di spirito che specialmente chi ha in carico di insegnare di predicare eccetera eccetera sapete cosa deve fare deve riempirsi deve fare proprio l'overdose di Dio e poi con quello che gli avanza sfamare il prossimo questo si fa nell'orazione un consacrato sappia bene che tre ore al giorno minimo le deve pregare sapete Sant'Alfonso come campava questo lo dico io non lo dice ma sta scritto nelle sue biografie lui pregava dieci ore al giorno diconsi dieci e lavorava otto ore al giorno ce ne rimangono sei un po' di roba da mangiare faceva molte penitenze tra cui sanguinose discipline e anche quello ti prende un po' di tempo ovviamente quello non è considerato preghiera quella è penitenza sta altre sei ore quindi da dedicare alle penitenze al riposo e a mangiare questa era la vita di Sant'Alfonso a ciò che poi le presenti considerazioni potessero servire anche per predicare ai sacerdoti che hanno pochi libri o non hanno tempo di leggerli le ho fornite di testi di scrittura e di passi dei Santi Padri benché brevi ma spiritosi quali appunto debbono essere per le prediche spiritosi qui non vuol dire spiritosi nel senso nel senso che intendiamo noi spiritosi e pregni di spirito di spiritualità avvertendo che ogni considerazione unitamente con tutti i tre punti viene a formare una predica a tal fine ho procurato di raccogliere da molti autori sentimenti più vivi che mi sono parzi più atti a muovere e ne ho posti diversi ed in succinto a ciò che il lettore possa sceglierne quelli che più gli gradiscono e stenderli poi a suo piacere tutto sia gloria di Dio e sentire viva Gesù nostro amore e Maria nostra speranza un'altra cosa tipica dei santi dei grandi predicatori questo non vescovo non era che ci abbiamo paura di dire viva Gesù nostro amore e Maria nostra speranza ci abbiamo paura di dire siano rodati Gesù Cristo o meglio ancora per quanto mi riguarda siano rodati Gesù e Maria c'è da vergognarsi di dire questo ma anche no è una gloria dire viva Gesù nostro amore diciamo chi sta ascoltando lo dica a mente viva Gesù nostro amore e Maria nostra speranza siamo tutti quanti felici di dirlo questo qui o no vedo il tempo dunque mi verrebbe la tentazione di fermarmi e di fare un Alexio Brevis però magari forse non tutti e tre i punti perché non faremo in tempo magari facciamo apriamo la prima considerazione questo testo è fatto a considerazioni le considerazioni sono vado un attimo a vedere fino alla fine nell'indice avremo 36 considerazioni la prima ritratto di un uomo da poco passato all'altra vita fortissimo e l'ultima la trentasesima dell'uniformità alla volontà di Dio ho la tentazione che mi sa che la secondo di presentarle tutte queste considerazioni così ecco chi si sente sta prima puntata vedrà se gli interessano anche le altre allora la prima che oggi speriamo di aprire almeno di introdurre è ritratto di un uomo da poco passato all'altra vita poi seconda con la morte finisce tutto brevità della vita 4 certezza della morte incertezza dell'ora della morte 6 morte del peccatore 7 sentimenti di un moribondo morte dei giusti pace di un giusto che muore mezzi per apparecchiarsi alla morte prezzo del tempo importanza della salute salute qui chiaramente intende salvezza non la salute corporale vanità del mondo la vita è viaggio all'eternità quattordicesima siamo arrivati della malizia del peccato mortale della misericordia di Dio 17 abuso della divina misericordia 18 del numero dei peccati poi della grazia e della disgrazia di Dio pazzia del peccatore questo mi piace assai numero 20 vita infelice del peccatore 21 del malabito inganni che il demonio mette in mente i peccatori numero 23 poi il giudizio particolare il giudizio universale le pene dell'inferno meditazione 26 l'eternità dell'inferno 27 i rimorsi del dannato 28 poi 29 il paradiso 30 la preghiera 31 la perseveranza 32 la confidenza nel patrocinio di Maria 33 l'amore di Dio 34 della santa comunione 35 della dimora di Gesù nel santissimo sacramento 136 dell'uniformità alla volontà di Dio bello eh allora considerazione prima ritratto di un uomo passato all'altra vita da poco tempo passato all'altra vita sottotitolo citazione del libro della Genesi 13 19 pulvis es et in pulverem reverteris ciò che Dio disse ad Adamo dopo il peccato originale tu sei pulvere e in pulvere ritornerai è quello che ci viene detto grazie a Dio ogni anno il mercoledì delle ceneri pulvis es et in pulverem reverteris punto primo considera che sei terra e in terra hai da ritornare ad avvenire un giorno che hai da morire e da trovarti a marcire in una fossa dove sarai coperto dai vermi operimentum tum erunt vermes Isaia 14 11 chi capisce il latino ha già capito comunque traduzione operimentum tum la tua coperta erunt futuro saranno vermes i vermi questo è il prologo no quindi l'intero stile dei grandi predicatori non mi sembra uno stile molto come dire oggi si direbbe politicamente corretto pagato che non urta tum considera che sei terra e in polvere è in terra è da ritornare ad avere un giorno che è da morire e da trovarti a marcire in una fossa dove sarai coperto dai vermi agli ascoltatori le considerazioni io sto leggendo Sant'Alfonso mi guardo bene dal dire queste cose in diretta perché immagino che cosa susciterebbero a tutti è da toccare la stessa sorte a nobili e a plebei a principi e abbassarli uscita che sarà l'anima dal corpo con quell'ultima aperta di bocca l'anima andrà alla sua eternità e il corpo ha da ridursi in polvere citazione del salmo 103 29 a oferes spiritum eorum et in pulverem revertentum togli loro lo spirito il respiro anche si può tradurre et in pulverem e ritornano nella loro in polvere ora immaginati di vedere una persona da cui poco fa si è aspirata l'anima mira in quel cadavere che ancora sta sul letto il capo caduto sul petto i capelli scarmigliati ed ancora bagnati dal sudore della morte gli occhi incavati le guance smunte la faccia in colore di cenere la lingua e le labbra in colore di ferro il corpo freddo e pesante chi lo vede si impallidisce e trema quanti alla vista di un parente o amico defunto hanno mutato vita e lasciato il mondo sono cose a cui bisogna pensare oggi il tema della morte amici è esorcizzato cioè non ci si deve pensare la sapienza dei santi non ho capito bene l'ultima sillaba non ci si deve pensare no non ci devi pensare come e con estremo realismo e con grande composizione di luogo proprio precisa quindi guardalo bene un cadavere hai mai visto tu lo ricordi i capelli scarmigliati il capo caduto ancora bagnato dal sudore della morte gli occhi incavati le guance smunte la faccia di cenere il corpo freddo e pesante questo è un morto questo e poi finito no non è finito qui si rincara la dose maggior orrore da poi il cadavere quando principia a marcire a me è capitato qualche volta l'ho raccontato di andare a fare qualche preghiera specie d'estate su un defunto che guardate che quando comincia a dare cattivo odore c'è da morire cioè io ho dovuto fare uno sforzo di dominio non mi vergogno a dirlo cioè quasi sovrumano di me stesso per non rigettare è terribile è una cosa allucinante cioè chi non ha mai sentito chi non ha mai sentito il male odore di un cadavere non se lo può immaginare che cosa sia non saranno passate ancora 24 ore che è morto quel giovine e la puzza si fa sentire bisogna aprire le finestre bruciare molto incenso anzi procurare che presto si mandi alla chiesa e si metta sotto terra ciò che non ammorbì tutta la casa verissimo e l'essere stato quel corpo di un nobile di un ricco non servirà che per mandare un fetore più intollerabile e infatti dice un autore gravius fetent divitum corpora i corpi dei ricchi puzzano di più l'autore è messo in nota perché a quei tempi le citazioni erano liberi non erano così scientifiche come oggi che non puoi dire mezza parola se non fai una nota a piedi pagina quando scrivi un testo dice un autore in nota notato chiaramente dal compositore quindi dal curatore di questa edizione che ha detto questa frase è Santa Ambrogio ecco dove è arrivato quel superbo quel disonesto prima accolto e desiderato nelle conversazioni ora è diventato l'orrore e l'abominio di chi lo vede ond'è che si affrettano i parenti a farlo cacciare di casa e si pagano i facchini a ciò che è chiuso in una casa lo portino a buttarlo in una sepoltura prima volava la fama del suo spirito della sua garbatezza delle sue belle maniere delle sue lepidezze ma tra poco che è morto se ne perde la memoria dice il Salmo 9-7 perit memoria eorum cum sonitu la bellissima traduzione della vulgata svanisce la loro memoria con rumore al sentire la nuova della sua morte altri dice costui si faceva onore altri ha lasciato ben accomodata la casa altri se ne rammaricano perché il devunto regava loro qualche utile altri se ne rallegrano perché la morte la sua morte loro giova del resto tra poco tempo da nessuno più se ne parlerà e sin dal principio i parenti più stretti non vogliono più sentirne parlare affinché non si rinnovi loro la sofferenza nelle visite di condoglianze si parla di altro e se Taruno esce a parlare del defunto dice il parente per carità non me lo nominate più pensate che siccome voi avete fatto nella morte dei vostri amici e congiunti così gli altri faranno con voi entrano i vivi a far comparsa nella scena e ad occupare bene i posti dei morti e dei morti niente o poco si fa più stima o menzione i parenti a principio resteranno afflitti per qualche giorno ma tra poco si consoleranno con quella porzione di robe che sarà loro toccata sicché tra poco più presto si rallegreranno della vostra morte e in quella medesima stanza dove voi avete spirata l'anima e sarete stato giudicato da Cristo Gesù si ballerà si mangerà si giocherà e riderà come prima e l'anima nostra dove allora starà? seguono gli affetti e le preghiere o Gesù mio Redentore vi ringrazio che non mi avete fatto morire quando io stavo in disgrazia vostra da quanti anni io meriterei di stare nell'inferno se io morivo in quel giorno in quella notte che ne sarebbe stato di me per tutta l'eternità ci abbiamo mai pensato a queste cose specialmente chi di noi fosse vissuto in stato di peccato mortale di convertiti hai mai pensato di ringraziare in ginocchio nostro Signore che non ti ha fatto morire quando stavi in stato di dannazione sapete che dall'inferno non si esce fuori queste sono parole che Sant'Alfonso mette in bocca a chi medita tu glielo diresti al nostro Signore da quanti anni io meriterei di stare nell'inferno ti senti meritevole dell'inferno tutti i Santi si sono sentiti meritevoli dell'inferno tutti tutti e chi non si è potuto sentire meritevole dell'inferno in atto perché magari i grossi peccati diversi Santi hanno avuto questa vita non li ha fatti ci si sentivano tali impotenza non li ha fatti signore non li ha fatti perché tu mi hai preservato mi hai ricormato di grazia altrimenti ne avrei fatti molto più dei più grandi peccatori e non lo dicevano tanto per dire o per atteggiarsi da umili lo dicevano convintissimi di quello che dicevano signora signora ve ne ringrazio vedete il voi con cui ci si rivolgeva al nostro signore a Gesù Cristo e in diverse preghi a Gesù Cristo alla Madonna qui lui parla in italiano no? tu dice eh ma al nostro signore si dà il tu attenzione noi dobbiamo cercare di fare qualche piccolo sforzo in latino il tu e il voi il lei e il voi non esistono i romani sta cosa non ce l'avevano in latino non c'era cioè tu all'imperatore ave Cesare ave Cesare morituri te salutant te salutant te e tu ave Cesare coloro che vanno a morire ti salutano era il saluto che facevano i gladiatori all'imperatore ma il gladiatore che era insomma la feccia all'imperatore gli dava del tu perché il latino è fatto così quindi c'erano altri modi per esprimere la differenza e l'onore però per esempio in italiano il tu è proprio tanto per la quale no? cioè l'istintivo del cafone è quello che incontra una persona che non ha mai visto e gli dà del tu non si fa no? anche perché il tu è un tipo di relazione nella lingua italiana tra pari ma noi non è che siamo pari al nostro signore Gesù Cristo non siamo pari il fatto che lui si sia fatto si sia incarnato per una sua mirabile misericordia e condiscendenza mica ti autorizza a trattarlo come se oggi si dice come uno di noi però Gesù Cristo non è uno di noi in questo senso cioè in questo senso spero che riesca a farmi capire no? o certe teologie mariologiche moderne alla Madonna è una donna normale è una di noi non ho capito bene l'ultima sillaba la Madonna è una donna normale è una di noi la Madonna è una donna certamente non è una dea o una angiolessa ma la Madonna è la Madonna è la più pura è la più santa San Luigi la chiamava la divina Maria non la dea Maria ma la divina Maria è la piena di grazia noi non possiamo prestare alla Madonna pensieri sentimenti di un adolescente normale di una ragazzotta normale o di una donna normale cioè normale nel senso di comune ordinare peccatrice peccatrice non nel senso che chi lo sa che debba aver fatto peccatrice nel senso che ha una figlia di Adamo la Madonna non è lo è ma non lo è è figlia di Adamo perché è membra della razza umana ma non lo è perché non ha ereditato la colpa originale quindi notiamo questi particolari io accetto la mia morte in soddisfazione dei miei peccati e l'accetto secondo il modo che a voi mi piacerà di mandarmela ma giacché mi avete aspettato finora aspettatemi un altro poco dimitte me ut plangam paulum dolore meum questo è il libro di Giobbe lascio Signore che io pianga per un po' il mio dolore cioè chiosa Sant'Alfonso datemi tempo da piangere le offese che vi ho fatte prima che mi abbiate a giudicare anche qui la morte l'accettazione della morte tornerà a questo tema è un atto dalla portata santificante straordinaria non anticipo quello che dirà Sant'Alfonso la morte non va respinta non va temuta noi dobbiamo dire io l'accetto la morte a sconto dei miei peccati ci passo volentieri attraverso questo travaglio attraverso questo salto nell'ignoto non nel buio e non del tutto ignoto perché noi comunque abbiamo la fede che ci dice diverse cose di quello che accadrà al momento della morte e dopo la morte che morte quella che piacerà a te che morte faremo quella che piace a te signore ci sono molti modi di morire non quella che piace a me facciamo quella che piace a te e mi avete aspettato fino adesso che forse adesso speriamo che un po' di grazia è arrivata aspettate un altro po' datemi tempo di piangere i miei peccati prima che mi abbiate a giudicare perché i peccati bisogna piangerli questa è un'altra cosa che tutti i santi hanno insegnato misericordia 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 certo che misericordia ma i peccati bisogna piangerli però bisogna pentirsi io non voglio più resistere alle vostre voci chissà se queste parole che ho lette sono l'ultima chiamata per me confesso che non merito pietà voi tante volte mi avete perdonato ed io in grato ho ritornato ad offendere e poi c'è una citazione del salmo 50 cor contritum et humiliatum deus non despisces un cuore affranto ed umiliato o Dio tu non lo disprezzerai signore già che voi non sapete disprezzare un cuore che si umilia e si pente ecco il traditore che è pentito a voi ricorre traditore traditore se hai trasgredito i comandamenti sei un traditore io sono un traditore se ho trasgredito qualcuno dei comandamenti ne proisce as me a face tua non respingermi dalla tua presenza questo è sempre il salmo 50 13 per pietà non mi discacciate voi avete detto eum qui venite a me non è Ishan Foras chi viene a me io non lo caccerò fuori non lo respingerò è vero che io vi ho oltraggiato più degli altri perché più degli altri sono stato da voi favorito di luna e di grazie vedete non è detto che le abbia fatto più grosse da un punto di vista oggettivo ma è proprio dell'umiltà dire con tutte le cose che il Signore mi ha donato con tutte le grazie che mi ha fatto insomma non è che era voluto fare molto di più non è molto meglio e non fare alcune stupidaggini che ho fatto ma il sangue che avete sparso per me mi dà animo e mi offre il perdono se io mi pento c'è sempre questo se io mi pento se io mi pento quando qualcuno viene magari rimproverato ah ma il peccato è il peccato è il peccato ma c'è la misericordia certo che c'è la misericordia se io mi pento ricordiamo sempre questa cosa qui Dio perdona chi è pentito non chi non è pentito e pentito significa riconoscere il peccato come peccato dolersi di averlo commesso fino a piangerlo se il signore ci dà questa grazia confessarlo umilmente e proporre fermamente di non farlo più pena la morte cioè a costo di essere ammazzato io non rifaccio quel peccato questo è il pentimento stai così a confida nella divina misericordia spera nella divina misericordia riposati nella divina misericordia ma se stai così però sì mio sommo bene che mi pento con tutta l'anime di avervi disprezzato perdonatemi e datemi la grazia di amarvi per l'avvenire basta quanto vi ho offeso la vita che mi resta no Gesù mio non la voglio più spendere ad offendervi voglio spenderla solo a piangere sempre i disgusti che vi ho dato sentite e ad amarvi con tutto il cuore o Dio degno di infinito amore o Maria speranza mia pregate Gesù per me dobbiamo fermarci anche se mancano gli altri due punti perché se no diventa un po' troppo prolissa la prossima volta cominciamo riprendiamo da qui e poi vediamo un po' casomai vediamo un po' come va perché la mia intenzione sarebbe poi di riuscire a fare per ogni puntata con 36 puntate circa 40 riusciamo a finire il ciclo un capitolo però vediamo anche un po' come vanno le cose perché non è importante correre ma è importante gustare e assimilare dal profondo i grandi insegnamenti di quest'ora grazie per chi ha avuto la bontà e la pazienza di ascoltare fino a questo punto e appuntamento per chi vuole alla seconda puntata Dio vi benedica e la santa vergine vi protegga laudentur Iesus et Maria